Ciao, sono Luca Nuce e praticamente sono makeup artist italiano, lavoro nelle tv italiane e quindi sono appunto il makeup artist delle celebrità italiane. Io ho disegno da quando ero bambino, quindi ho voluto sposare praticamente il makeup col 3D e col disegno ovviamente e ho cominciato a fare tutto quello che vedete sui miei social. Diciamo che ho iniziato circa quattro anni fa con i disegni 3D sul palmo della mano. Volevo semplicemente ringraziarvi per questa intervista e vi mando un bacione grandissimo. Grazie. 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 Grazie.